Ciao ragazzi, domani ultima di carnevale, vi aspettiamo prima, dopo, durante e oltre per festeggiare. Ben trovati amici di Obiettivo 100 a questo nuovo caffè della domenica mattina. Oggi sono venuto a fare una passeggiata approfittando della bella giornata, sperando che ci sia una bella giornata anche quest'ultima domenica di carnevale, dove scopriremo qual è il carro che ha vinto, noi puntiamo tutto sui nottambuli, ma anche gli Amma Gamma credo che possano farcela. Detto questo, noi parleremo di storia oggi e parleremo anche del Lions Club, parleremo di tante cose, ma prima di tutto vi devo invitare a iscrivervi al nostro canale YouTube, condividere questo video, mettere anche mi piace magari, sempre per aiutare a crescere il canale e il progetto Obiettivo 100, seguirci su tutti i social, mi raccomando, Facebook, Instagram e Telegram, e visitate il sito www.obiettivocento.it per leggere tutti gli approfondimenti che si collegano anche ai video servizi che state guardando. Come detto, oggi parliamo del Lions, che si può tante volte nominare, ma parleremo anche di storia, parleremo perfino di politica, parleremo di tutto questo con una persona che è inchiacchierata, non c'è dubbio, ma che oggi ci ha regalato veramente un patrimonio culturale e storico di questo paese. Ed eccoci qua con Adriano Orlandini, che ringraziamo di averci accolto nel suo studio archivio, con un museo, un museo, voi non potete immaginare, già eravamo rimasti impressionati con la gipsoteca, di tutto quello che c'era dentro, ma qua diciamo, se la combatte insomma, soprattutto a livello di CD, perché noi dietro abbiamo sempre dei vinili, qua invece quanti CD hai detto che hai? 10.000 E-pass CD e 3.000 E-pass LP, ci sono anche quelli, ci sono solo i CD, è veramente qualcosa di impressionante. Bene, Adriano ho chiesto di accoglierci per parlare ovviamente della sua presidenza all'IOS Club, insomma, di quanto tempo fa ormai parliamo, di qualche mese, due o tre mesi, insomma, perché era da tempo che volevo parlare di questa realtà e non avevo mai avuto occasione nei vari incastri. Prima di tutto però partiamo da chiederti che cos'è il Lions Club, perché se ne sente parlare, si vede che fa delle iniziative, ma secondo me la maggior parte delle persone fanno un po' fatica a comprenderci. Che pensano che sia massoneria, quelle cose lì. Sì, no, siccome noi siamo appassionati di storia, non è la P2, ecco. No, decisamente no. Anche il Rotary non lo è, quindi. I Lions Club sono stati fondati nel 1917 e in questo momento sono la più grande organizzazione mondiale di club di servizio e solidarietà. Siamo quasi un milione e mezzo di lionisti, suddivisi in 47.000 club che operano in oltre 200 nazioni. Il nostro club, quello di 100, è stato fondato nel 1966. Che ricordiamo 100 in una nazione. E ha avuto il privilegio e l'onore di avere come primo presidente Ferruccio Lamborghini. Però, quindi, diciamo, anche a tema a recensione. Certo, certo. Un bastezia. Un bastezia. E in questo momento siamo una cinquantina di soci e dopo la parentesi del Covid, in cui praticamente abbiamo svolto attività solo o quasi unicamente assistenziale e di solidarietà, vogliamo, siamo tornati quest'anno a svolgere un'attività di, chiamiamola, recupero e salvaguardia delle nostre storie, delle nostre tradizioni. Quindi, se parliamo dell'attività di quest'anno, se da un lato abbiamo continuato con la solidarietà, in modo particolare noi diamo contributi quest'anno alla Casa di Riposo Plattis, al pensionato Cavalieri. Abbiamo data la Casa Sollievo Bimbi di Milano. Questa è una benemerita associazione, la Vidas, presieduta da Ferruccio De Bortoli, che nel caso della Casa Sollievo Bimbi, dà un aiuto ai bambini che sono in fase terminale di tumore. Abbiamo dato un contributo come club e in questi giorni ho mandato personalmente, insieme ad altri, un altro contributo. Poi abbiamo il Centro Anziani, che quest'anno abbiamo dotato di una bellissima impastatrice, in modo tale da fare i loro eccezionali tortellini, che ho avuto modo di gustare domenica scorsa. Stiamo dando un aiuto all'Emporio Solidale della Caritas, e la prossima settimana daremo un aiuto anche alla Caritas di Sant'Agostino, che è nel nostro territorio di competenza. Questo per quanto riguarda quest'anno le attività assistenziali. Però, che possa entrare un po' più dentro, proprio all'IonSit, i membri, come ci si entra dentro all'IonSit? Su invito. Su invito, quindi, ogni socio ha diritto di presentare altri soci, cioè, sono soci che nella loro vita non presentano neanche un socio, e magari, come nel mio caso, ci sono soci che ne presentano varie annate, annate 4, 5, 6 soci. Cioè, ogni anno uno può presentare... Sì, sì. Anche perché comincia ad esserci un turnover notevole, anche per l'età. Noi abbiamo in questo momento tre soci oltre i 90 anni, e quindi sono eccezionali, e i più svelti di me, che ne ho 76. Ma i più svelti sicuramente di Nicola, che è il nostro anziano precedente, che è in Italia nella relazione. Però, guarda, George, che noi abbiamo conosciuto diverse realtà associative in questo nostro percorso di Obiettivo 100, se c'è una cosa che a me ha sempre positivamente impressionato dell'Ionismo è proprio la capacità di essere una vera associazione. Nel senso che, chiedo a te, Adriano, conferma di questo, cioè, c'è un presidente, c'è un direttivo, c'è la segreteria, ci sono i comitati. Come funziona un pochino tutta questa macchina? Perché molti si trovano a fare parte di associazioni che poi in realtà non sono associazioni vere. Tra l'altro, ci tengo a fare una precisazione, perché ogni tanto mi arrivano delle email. Obiettivo 100 è un'attestata, non è un'associazione. No, beh, anche recentemente... No, noi abbiamo ogni anno il rinnovo del Consiglio. Ogni anno siamo obbligati a rinnovare il 50% del Consiglio. Quindi comunque c'è anche un turnover nelle cariche elettive del club. C'è un presidente, un primo vicepresidente, un secondo vicepresidente, che arriveranno nei prossimi anni, un segretario, un cerimoniere, e vari, vari comitati, come tu hai detto, che appunto sono predisposti per le varie attività. Noi quest'anno, dicevo prima, di fuori dell'assistenzialismo o solidarietà, diciamo meglio, abbiamo organizzato degli eventi che credo abbiano lasciato un segno. Ne dico due. Il premio Olindo e Giovanni Malagodi a Ferruccio De Bortoli, con De Bortoli, che oltre a ricevere i premi nell'ex Cassa di Risprami, la mattina dopo ha parlato a quasi un migliaio di studenti nel palazzetto dello sport, e poi abbiamo fatto questi tre, li abbiamo chiamati così, con un termine inglese, i Lamborghini Days, che hanno riscosso veramente un ottimo successo, quello trionfale, quello di domenica scorsa, in piazza con 25 macchine Lamborghini, che per la gioia di grandi e piccini si sono posizionate nella piazza prima dell'inizio dei corsi carnevaleschi, poi dopo si sono trasferiti nel piazzale della Rocca. Il film ti è piaciuto su Lamborghini? Allora, io il film l'avevo visto già a Roma in anteprima nazionale, in lingua inglese. Era stato talmente criticato che alla fine ho detto beh, non è neanche male del tutto. Quando l'ho rivisto a cento mi è piaciuto già un po' di più ancora, a parte il doppiaggio che in effetti poteva essere fatto. Poi chiaramente noi centesi vediamo tutte le magagne di questo film, l'officina di Lamborghini in piazza, per dire. Però credo che tutto sommato tanti film che vediamo sulle nostre rette televisive siano di livello quasi inferiore rispetto a questo. Sto proprio su questi centesi che hai appena nominato, perché ci vorrebbe una puntata solo per descrivere tutte le cose che hai fatto in questi settanta e qualcosa di più anni per questa comunità. fra le tante cose mi è capitato più volte chiaramente di leggere delle tue pubblicazioni ad esempio sulle testate locali, sul centone e oltre all'incredibile approfondimento e qualità nella ricerca di quello che presenti no, è così cioè nel senso oggi viviamo in una società dove si leggono solo i titoli nelle tue pubblicazioni invece c'è da imparare. Ah, chiaro. E poi sono anche condivisi da tutta la collettività perché li trovi condivisi su Facebook. Ed è proprio su questo che volevo stare perché qual è secondo me una ricetta che in quello che è la produzione di Adriano arriva? quel famoso spirito di comunità quella centesità che tanti ricercano che la politica ricerca che altre associazioni inseguono ma che poi alla fine sfugge sempre invece questo spirito questa voglia di raccontare cento in te è traspato. Come funziona questo lavoro e perché per te è così significativo questo richiamo alle nostre origini alle nostre radici in questa comunità nella quale viviamo? Beh, io sono sono nato a Pieve di Cento nato a Cento all'ospedale di Cento ma in quel momento la mia famiglia risiedeva a Pieve di Cento subito giù dal ponte ci sono rimasti due o tre anni poi dopo da allora quindi da 73 anni sono sono cittadino di Cento io ho sempre matto Cento amo anche Pieve devo dire perché altrimenti qualche Pivarolo mi spara mi spara a contro però però devo dire che l'amore per Cento e lo per certi versi l'ho dimostrato quasi subito non so se vi ricordate no voi non vi potete ricordare perché non eravate ancora nati io ero sto stato anche direttore del setaccio che ho là il setaccio era il giornale degli studenti universitari della signoria del Gambero io fui subito uno dei fui uno dei fondatori per qualche numero di rettori scrivevo articoli e lì è nato questa mia passione per Cento poi l'amicizia col professor Ugo Montanari è stato veramente condizionante è stato amico di Ugo fin dall'infanzia e è stato lui per certi versi anche avvicinarmi insieme a mio cognato alla passione per la musica la musica classica Ugo fece una pubblicazione bellissima su Bartolomeo Campagnoli che a parte il nome della via nessuno sapeva chi fosse qua Cento e lì mi ha dato l'estro per continuare cominciare a fare e continuare in seguito a fare queste ricerche che sul primo momento erano per anni sono state destinate alla storia della musica soprattutto lirica storia del teatro di Cento la biografia di Borgatti biografia di altri cantanti l'erce alla Cervi Caroli a Casumaro la Zeppili a Pieve poi negli ultimi questi due ultimi due tre anni mi è venuta questa passione per la storia di Cento perché ho scoperto che c'è in questo momento a Cento c'è c'è carenza di persone che studino possano studiare il nostro passato e che lo sappiano raccontare e che lo sappiano raccontare naturalmente io da quel lato lì credo di tutto sommato di sapere anche abbastanza raccontare e quindi e poi ricevo continuamente degli incitamenti da parte soprattutto via Facebook da parte di amici che mi dicono che bello l'ultimo articolo perché non scrivi anche questo e allora scrivi anche questo insomma rai della favola dicevo prima io adesso che sono in pensione da 4-5 anni sto lavorando molto molto di più di quando lavoravo mamma mia insomma è importante la storia di questa città perché quello che forse secondo me non ci rendiamo conto in molte occasioni quando parliamo di questa città è il patrimonio storico che abbiamo perché non ci limitiamo al Guercieno di cui ci riempiamo spesso la bocca e tante volte non sappiamo neanche però io ieri sera ho partecipato a una conferenza al centro studio di Guercieno insomma c'è anche tanti altri artisti oltretutto hai una grossa passione a livello culturale non soltanto io ho fondato il museo tra le altre cose il museo Maria Censi in San Lorenzo che sciaguratamente è stato chiuso per far posto all'attuale mostra del Guercino spero che una volta che la mostra del Guercino verrà definitivamente riportata in Pinacoteca possa essere riportata a qualcuna delle opere che c'erano in questo museo uno dei pochi esempi di musei di arte sacra e religione moderna beh insomma io comunque ieri sera ho partecipato a quella su Bonzagne e mi è venuto proprio in mente il fatto insomma che dovremmo andare oltre il Guercino anche perché ripeto di cultura non si mangia ne abbiamo già parlato però se un cichinino ne portiamo a casa con questi artisti vi posso dare un anteprima non farebbe male ecco certo vi posso dare un anteprima io ho riportato non ho riportato a cento perché non c'è mai stato a cento comunque ho portato a cento un altro quadro di Haroldo Bonzani che verrà acquistato dalla mia famiglia che verrà appena verrà riaperto il museo della galleria di arte moderna verrà verrà collocato appunto nella galleria di arte moderna per arricchire appunto anche il patrimonio che ruota attorno alla tragica figura di Haroldo Bonzani molto bene aggiungo una domanda a quelle che avevamo previste abbiamo parlato molto di comunità te che hai visto la storia o la stai studiando insomma la storia di questa città abbiamo il sentore ne parliamo spesso e volentieri che c'è niente abbia perso il suo senso di comunità allora ti faccio una domanda che cos'è che rende cento cosa ha reso cento una comunità così forte in quali radici possiamo andare a cercare per tornare a essere una comunità ricordiamoci comunque di una cosa che non è un problema solo centese a parte Pieve di Cento che è un unicum nel suo genere tutti gli altri centri grandi o meno grandi di Cento stanno soffrendo questa crisi di identità cento che cosa ha avuto rispetto ad altre comunità cento è sempre stato un paese ricco ecco perché quando c'è stato il boom economico degli anni 50 60 cento ha pagato lo scotto di questo boom economico abbiamo distrutto mezzo a cento dei palazzi bellissimi tipo il palazzo Rusconi via Malagodi che è stato battuto per fare posto a un brutto condominio vabbè chiusa questa parentesi cento ha sempre avuto grandissima il senso della solidarietà quindi a cento se guardiamo la storia ad esempio della seconda metà dell'ottocento ci sono stati veramente dei grandi grandi mecenati che hanno contribuito all'ospedale hanno contribuito ad altre cose Taddià che nel novecento costruisse le scuole che ci sono qui dietro insomma tutto in assenza insomma allora le persone ricche benestanti erano in genere anche mecenati purtroppo questo senso del mecenatismo a cento non c'è più non c'è più e credo che paghiamo un po' lo scotto anche di questo certi investimenti soprattutto nella cultura c'è la benemerita associazione imprenditori centesi per la cultura ma ci vorrebbe tanto di più e poi e poi e poi niente sta aumentando il nostro individualismo alla sera quando arriviamo in casa ci chiediamo in casa senza più pensare c'è sempre più difficoltà di uscita di uscire tutta la sera per manifestazioni e così via niente staccano esatto poi ci sono i soci che da quel lato lì sono veramente negativi da quel lato lì vedo che anche a me fanno perdere tanto tanto tempo che potrei dedicare a qualcosa di più costruttivo ma ci ritorniamo però non non disperiamo ecco io spero molto nei giovani se hanno voglia i giovani sanno fare tanto e come dico anche nei giovani ci sono dei giovani che sono spettacolari da questo punto di vista io sono un genitore privilegiato per certi versi perché ho due figlie di cui una che è in Bangladesh lavoro in Bangladesh per la comunità europea è un dirigente della comunità europea che gestisce i vari aiuti ai Rohingya che sono i profughi dalla Birmania mia figlia è via da 15 anni ha fatto 10 anni in Africa 4 anni in Libano e adesso da un anno in Bangladesh mia figlia che è innamoratissima di 100 ed è sempre continuamente in contatto segue così però vuole talmente bene ai suoi bambini che la vedo continuamente nelle sue foto con i bambini che lei dice papà se io venissi a 100 non riuscirei assolutamente a trasmettere quel bene che adesso credo di riuscire a trasmettere a questi bambini che hanno tanto tanto bisogno ecco quindi tra i giovani ci sono ancora veramente e non sono eccezioni però bisogna bisogna vanno pungolati ma a loro va dato soprattutto la possibilità di poter emergere ecco no no assolutamente io lo so che tu adesso vuoi andare a stuzzicare il nostro ospite perché Adriano oltre che storico oltre che appassionato di musica Lions e tutto è anche un pezzetto della politica centese George lascio a te la parola perché lo so che ti diverti premetto una cosa sono stato consigliere comunale dall'88 al 93 sono tornato a essere consigliere comunale dal 2006 al 2011 sono qua prima dei non eletti quindi a rischio a forte rischio di diventare terzo volta consigliere allora se per caso il consigliere Toselli si dimettesse suventrerei io hai capito che è una cuffana continuano allora faccio una doverosa premessa perché voglio affrontare questo discorso politico perché quando ho iniziato a interessarmi di politica è stato nella campagna elettorale dove Adriano si è candidato sindaco per il centro sinistra contro Flavio Tuzet come sapete a vieto Flavio Tuzet ma Adriano ha sempre diciamo orbitato nella politica locale non ultimo la candidatura al consiglio comunale se non ricordo male nella nella Lega nella Lega Nord Adriano insomma la tua passione per la politica mi sono fatto ti voglio fare questa domanda siccome sei passato dal centro sinistra al candidato no non è così allora ieri sono stato consigliere comunale della democrazia cristiana diciamo di quella parte della democrazia cristiana che guardava più al centro che alla sinistra poi nel 2006 ero in quel momento amico anche ero anche amico di Clemente Mastella Clemente Mastella che in quel momento era segretario dell'Eudeo e mi chiese da ex democristiano come me di se c'era se ci fosse stata la possibilità di candidarmi come come sindaco di cento per il centro sinistra l'ala destra diciamo del centro sinistra perché in quel momento l'Udeo era l'ala destra del centro sinistra io sono sempre stato di centro diciamo e nel centro sinistra ho trovato una certa accoglienza anche perché il mio alla fine cattolicesimo democratico mi aveva sempre aveva sempre dimostrato appunto quali erano le cose a cui io personalmente tenevo oltretutto il centro destra che io contattai dissero no no ma noi abbiamo già un candidato che non l'avevano ancora in quel momento a quel punto lì io mi sono candidato per il bene del paese mi sono candidato come candidato sindaco del centro sinistra e quando ho fatto quella scelta che mi ha fatto purtroppo perdere tanti tanti amici che non mi salutano neanche più questo mi dispiace molto la politica una volta era diversa una volta io andrei in consiglio comunale democristiano e dall'altra parte c'erano i consiglieri comunali comunisti durante le sedute del consiglio comunale ci attaccavamo vicendevolmente ma appena terminava il consiglio comunale andavamo giù da censo a bere un bicchiere di vino insieme adesso purtroppo non è più così questo è un altro degli aspetti brutti dell'evoluzione della politica in Italia e decisi e perché ho deciso di appoggiare Tuzet questo bisogna che io lo ripeta sempre io appoggiai Flavio Tuzet perché se avessimo mandato a casa Flavio Tuzet il comune di Cento sarebbe rimasto 15 mesi sotto commissario prefettizio e io che avevo già visto altri commissari prefettizi non potevo assolutamente tollerare che una città come Cento rimanesse 15 perché allora le condizioni erano tali per cui fino all'anno successivo non si sarebbero potute ripetere le lezioni decisi di appoggiare Flavio Tuzet cercai in tutti i modi di condizionarlo e per certi versi credo di essersi riuscito in alcune cose ed ecco perché feci quella scelta ecco ma io sono sempre stato non sei stato l'unico Diego Contri ha fatto la tua stessa ragazzi chi non cambia idea a sto mondo lo sapete chi è poi ma io voglio farti proprio una domanda riguardo alla politica oltre a chiederti se hai intenzione di continuare a fare politica a livello finché campo sì la politica è sempre stato il mio amore pensate che io avevo 7-8 anni che leggevo già i giornali avevo 9 la verità nel 1956 quando ci fu la questione di Suez ci furono i fatti ungheresi io allora leggevo già il resto del violino se ti consola di Nicola a 11 anni ci appassionavamo alle vicende di Gianfranco Fini la politica come ha detto proprio Gianfranco Fini è un virus che si prende da bambino molto ha contribuito mio padre devo dire mio padre era che è sempre stato lontanissimo dal fare politica ma era un anticomunista viscerale e cercava appunto di installare in me questo anticomunista ci è riuscito non del tutto però insomma ma la domanda che ti voglio fare è questa proprio a fronte del passaggio che hai fatto quando hai deciso insomma di passare in maggioranza con Flavio Tuzet e a fronte anche della scelta che fece Diego Contri a livello locale l'appartenenza di un colore politico è importante o ininfluente? è deleteria ma cazzo deleteria per me perché ti impedisce ti impedisce di partecipare se sei all'opposizione praticamente ti impedisce di partecipare alla realizzazione della vita cittadina allora io non sono stato assolutamente sono candidato addirittura non sono stato assolutamente favorevole a questa giunta attuale però soprattutto già mi sono avvicinato con i Lamborghini Days io credo che anche io che sono di opposizione devo fare di tutto per cercare di aiutare questa amministrazione che non è sempre fortissima e quindi bisogna rinforzarla un po' ma non con il voto rinforzarla con le idee sperando però che questa amministrazione e tutto sommato devo dire che per certi versi mi sembra che le idee poi qualcuno le accettino sperando appunto che l'amministrazione si faccia consigliare da chi ha più esperienza da chi pensa di avere delle idee costruttive e credo che pian piano anche questa amministrazione si metterà su questa strada qui ecco beh è interessante io la mia collaborazione gliel'ho detto col sindaco anche recentemente io la mia collaborazione la darò sempre e comunque a qualsiasi amministrazione sono state le amministrazioni che tipo quella di Piero Lodi mi hanno completamente tagliato fuori anzi danneggiandomi quando ero presidente del patrimonio studi che fui mandato via poi fortunatamente dopo il TAR mi ha reintegrato beh io ho voluto chiederti questa domanda perché spesso volentieri quando noi parliamo di politica è molto facile sentirci dire ah siete a favore di questo piuttosto che quell'altro no noi semplicemente ci limitiamo a raccontare e abbiamo le nostre idee politiche ovviamente come tutti però nel dover raccontare o fare il bene di questa città non si può sempre guardare al colore ma bisogna guardare ai fatti e questo è quanto però dopo questa cosa qua direi che ci beccheremo un sacco di insolenze sui social ma Adriano sui social lo trovate spesso e volentieri esatto infatti io sono rimasto colpito da questa cosa tempo fa ho ricevuto la tua richiesta ad amicizia su facebook accettata e subito dopo mi è arrivato il messaggio piacere Nicola io l'ho trovato una cosa di una cortesia estrema allora piano piano ho detto metto il focus su questo allora personaggio di facebook e ho cominciato a vedere a seguire le tue pubblicazioni anche su personaggi centesi dal 1950 ad oggi e ho detto ma caspita io e Giorgio abbiamo spesso criticato quella generazione i famosi boomer per come hanno cercato di utilizzare i social senza riuscirci dico poi invece se uno guarda il profilo non solo social ma in generale la carattura della modalità della deontologia che comunque c'è in Adriano Orlandini sui social allora non è vero che quella generazione lì usa facebook solo per fare i leoni da tastiera allora facciamo questa cosa quasi paradossale per alcuni chiediamo a te che appartieni a una generazione che è prima della nostra come si usano i social non prima due generazioni prima come si usano i social in maniera corretta basta essere intelligenti io rimango ma non è una cosa da poco non è una cosa richiesta da poco quella e soprattutto soprattutto non assolutamente non essere i famosi leoni da tastiera io credo che qualsiasi concetto sarà perché mi sono sempre considerato un moderato qualsiasi concetto espresso con moderazione sia comunque più pregnante che certi che certe esternazioni tremende che io io vedo e leggo sui social ad esempio per arrivare al caso Schlein io ho letto delle cose che sono veramente indecenti contro questa ragazza che non gode della mia simpatia che sia chiaro però umanamente certo umanamente gode della mia simpatia perché non si può stroncare come nel caso opposto si è voluto stroncare la Meloni lasciamole lavorare intanto lasciamo lavorare e vediamo di cosa sono portatori io credo che ad esempio la Meloni stia dando prova di alcune cose che probabilmente lo stesso Draghi non sarebbe riuscito a portare avanti come le sta portando avanti lei lei è brava io penso che anche la Schlein sarà brava e quindi lasciamola lavorare beh io non approfitto solo per una paritese visto che domenica scorsa abbiamo fatto una puntata sulle primarie io e Nicola siamo rimasti bocca aperta alle 11.30 ci siamo andati i messaggi per commentarci la vittoria della Schlein più tu che metta lui ci aveva preso e devo dire chi ci aveva preso è il nostro amico Livrieri che l'aveva detto in tipi non sospetti attenzione lei vincerà quindi io rimango bocca aperta e veramente sono però comunque contento perché voglio vedere queste due donne io lo immaginavo no io no io ammetto perché e la fine della dimostrazione c'è stata che chi va a votare non erano i soci del PD ma c'erano le varie una volta le chiamavamo truppe cammellate portate a votare quindi è bello perché l'obiettivo 100 ci permette sempre di aggiungere dei termini di arricchire il nostro cammellare truppe cammellate soprattutto ai tempi della democrazia cristiana quando si facevano i congressi c'erano le truppe cammellate Andreotti nel Lazio ne aveva centinaia di migliaia di truppe cammellate aveva praticamente la residenza in ogni casa della cercheria adesso tra un po' spiega la camera io Adriano e Nicola mi stanno parlando della democrazia cristiana fino a dopodomani niente io direi che abbiamo toccato vari argomenti magari avremo occasione di approfittare insomma della tua ospitalità per approfondire alcuni temi storici perché mi piacerebbe come obiettivo raccontare un po' anche la storia è solo una questione di tempo per cui non l'ho ancora fatto ma prima o poi riuscirò a incastrare anche quello ma ho voluto Adriano non soltanto per parlare della storia dell'Ions ma per farvelo conoscere sotto un'altra luce perché indipendentemente ci tengo a precisarlo dall'appartenenza politica dalla storia politica che ha fatto Adriano o chiunque altro insomma dobbiamo andare oltre e conoscere sempre meglio il valore delle persone Adriano per esempio dal mio punto di vista ha un valore culturale insomma storico da condividere con questa città e che ci può arricchire in tutti i modi quindi non snubbiamo perché c'è un passato politico un futuro politico ma cerchiamo come hai detto te chiuso il consiglio comunale di andare oltre e di imparare futuro politico che non è detto che sarà in una certa direzione no no abbiamo capito che ci puoi fare sorpresa che se io trovassi finalmente un partito non dico che la pensa come me ma nel quale tutto sommato vedere un posizionamento un buon posizionamento da parte mia non avrei nessuna difficoltà ma ti faccio solo una domanda poi concludiamo il centro moderato di calenda non mi piace ecco è una robottissima e tu Giorgi vuoi tutti buttare questo centro non mi piace non mi piace perché sembra proprio un qualcosa che viene creato dall'alto i centri moderati debbono purtroppo nascere dal basso se non c'è la condivisione dal basso non crescono una possibilità potrebbe essere appunto questo posizionamento a sinistra del PD per portare uno spostamento non dico dei dirigenti ma dei votanti verso il centro di calenda e Renzi però sì dobbiamo vedere e Lions invece come lo vedi nel futuro allora noi quest'anno abbiamo fatto un passo molto importante abbiamo introdotto nel nostro club le signore che per 60 anni praticamente erano state escluse come in altri club e non c'era solo quello di centri non è stato facile ci sono state delle opposizioni interne ma alla fine è stata una battaglia mia personale proprio ci sono riusciti in questo momento abbiamo già tre soci e donne di alto livello e prossimamente spero di poterne poterne introdurre anche altre quindi già il fatto di mettere nuova linfa con le signore che secondo me sono molto importanti nell'organizzazione di di certe attività del nostro club è un fatto positivo poi stiamo cercando appunto di per sopperire eventuali future mancanze dei nostri carissimi amici 80-90 anni stiamo cercando appunto di introdurre dei soci giovani ma di valore come in tutte le associazioni non non basta entrare in un'associazione bisogna anche entrare con lo spirito di servizio per quell'associazione o ci lavori o è meglio non entrare fai un numero e basta benissimo Deano io ti ringrazio ringrazio voi che ci avete seguito avrei altre mille domande ma per oggi ci fermiamo qua buona domenica buon carruvale e ci vediamo domenica prossima ciao Nicola ciao 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 ciao